Una nuova edizione, un nuovo logo per una delle manifestazioni più longeve di tutto il Mugello, la Fiera Calda di Vicchio. Fiera Calda è una fiera molto importante perché pone le basi su Vicchio, centro espositivo del Mugello. Soprattutto nella civiltà rurale che caratterizzava il Mugello era la Fiera del Bestiame. Fiera Calda in realtà ha assorbito la Fiera del Bestiame che vediamo nello spazio suo proprio, nel contesto del Ponte a Vicchio, ma contemporaneamente è diventata la fiera che rappresenta la capacità espositiva in una Vicchio popolata di persone, con stand di assoluta qualità. La Fiera Calda 2024, la prima firma dell'amministrazione Tagliaferri, ha riscosso un enorme successo di pubblico, con tantissime persone che si sono ritrovate al cospetto di Giotto, tra musica dal vivo, DJ set, animazione, street food, mercatini e laboratori. Un programma ricco di iniziative, come raccontato entusiasta il neo sindaco in occasione del taglio del nastro. È tornata anche quest'anno la manifestazione tradizionale più importante del nostro territorio. Abbiamo numerosi appuntamenti in programma, tra cui laboratori per bambini, per famiglie, esibizioni dal vivo, musica di intrattenimento, DJ set. Si esibirà la domenica, nel giorno conclusivo, la Funk Off, una band funk made in Vicchio, che in realtà è conosciuta a livello internazionale. E ancora esposizioni di artigiani, laboratori, corsi di pittura, insomma, Vicchio riuscirà a vivere come comunità.